ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo delle stranezze dell'amore e di come charles darwin sposò una sua prima cugina se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale di vanilla magazine charles darwin biologo e naturalista universalmente noto per la sua teoria sull'evoluzione della specie per selezione naturale può essere considerato uno degli uomini che rivoluzionarono il mondo della scienza meno noto è il ruolo che ebbe la moglie emma wagwood nello sviluppo degli studi del marito e soprattutto nella decisione di pubblicare l'origine della specie nel 1859 dopo anni di ricerche ed esperimenti consapevole della portata rivoluzionaria e da un punto di vista religioso blasfema delle sue teorie darwin non si era mai risolto a pubblicarle fu la moglie emma ad aiutarlo nel lavoro di revisione della mastodontica mole di pagine di appunti raccolte nel corso degli anni nonostante le teorie del marito andassero contro la sua profonda fede cristiana e forse a convincerlo a pubblicare il suo lavoro quando il giovane scienziato alfred wallace era ormai arrivato a elaborare una teoria simile un matrimonio felice dunque quello di charles ed emma proficuo anche dal punto di vista lavorativo ma incredibilmente in contrasto con le teorie dello scienziato perché i due sposi erano cugini di primo grado quella di sposarsi non fu certo una decisione presa a cuor leggero darwin si approcciò l'idea con il suo consueto pragmatismo al ritorno dal suo lungo viaggio di ricerca a bordo del beagle darwin si stabilì a londra ma usando le sue parole una vita solitaria in una casa sporca e affumicata a londra dove trascorrere la vita come un'ape neutra a lavorare lavorare probabilmente non si adattava molto al suo carattere ipocondriaco nel 1838 stilò una lista di pro e contro su un possibile matrimonio a favore c'erano la possibilità di avere dei figli se dio vuole di avere una compagna al fianco fino all'età avanzata una persona con la quale divertirsi una casa confortevole e poi musica libri e chiacchiere davanti al calore di un camino acceso tutti questi vantaggi avrebbero però comportato una perdita di libertà della possibilità di conversare con uomini intelligenti al club senza contare l'ansia per le possibili difficoltà economiche della minore disponibilità di denaro per comprare libri e poi la perdita di tempo in attività di tipo familiare che avrebbe potuto essere impiegato per fare cose molto più interessanti come ad esempio imparare il francese vedere il continente o andare in america alla fine darwin decise che la sua vita sarebbe stata più felice se si fosse sposato e per trovare una moglie adatta a lui non andò troppo in là emma whitewood era perfetta nonostante fosse la figlia di un suo zio materno la ragazza non più giovanissima per i criteri dell'epoca aveva ormai 30 anni quando si sposò aveva goduto di un ambiente familiare molto benestante anche aperto intellettualmente e culturalmente tanto che la famiglia le consentì di viaggiare spesso all'estero e tra l'altro di compiere l'immancabile grand tour in italia cosa ancora non comune tra le ragazze d'inizio 800 si conoscevano da sempre emma e charles e il loro stretto rapporto di parentela non era all'epoca considerato un impedimento anzi dopo tutto perfino la regina vittoria aveva sposato un suo primo cugino diffondendo l'emofilia tra molte case regnanti d'europa e nelle famiglie darwin wagwood c'erano già stati matrimoni tra consanguinei le possibili conseguenze negative per gli eventuali figli erano però già note alla comunità scientifica e darwin era perfettamente a conoscenza delle teorie di un altro suo cugino francis galton l'inventore del termine eugenetica che lo avvertì dei possibili rischi per la loro prole emma e charles si sposarono comunque il 29 gennaio del 1839 e il loro fu un matrimonio lungo e per quanto possibile felice darwin scrisse alla sua futura sposa una settimana prima della cerimonia io credo che tu mi umanizzerai e ben presto mi insegnerai che esiste una felicità più grande che costruire teorie e accumulare fatti in silenzio e solitudine dieci figli venuti al mondo tra il 1839 e il 1856 portarono gioia all'affietata coppia ma anche molto dolore tra di loro morirono ancora piccoli altri tre in età adulta risultarono sterili e comunque nessuno godeva di buona salute tanto che darwin si trovò una volta a esclamare siamo una misera famiglia e dovremmo essere sterminati tuttavia nessuno di loro era affetto da malattie direttamente collegabili alla consanguineità tranne forse l'infertilità ma la precaria salute dei figli indusse darwin a condurre numerosi esperimenti sulle piante per analizzare i rischi genetici degli incroci fra consanguinei i risultati di quegli studi lo preoccuparono molto tanto che nel 1870 scrisse a un parlamentare john labock per metterlo in guardia proponendogli di inserire alcune domande specifiche sull'argomento quando veniva effettuato il censimento neanche a dirlo la sua proposta non fu accettata